Quando è uscito il video della ZX4RR a Castelletto, qualcuno mi avete chiesto perché schiacciavo col dito un pulsante sul blocchetto di sinistra della moto. Quello non è nient'altro che il tasto LAP per far partire e fermare il cronometro, perché il dashboard Kawasaki è predisposto per avere un cronometro, ma non avendo il GPS installato sulla moto ovviamente non sa quando far partire il cronometro e quando farlo fermare. Quello deve fare il pilota schiacciando il tasto LAP e ovviamente è un'operazione alquanto scomoda. E quindi devo dire grazie a PZ Racing che è venuta in soccorso e mi ha dato l'APTronic LP600 da montare sul Kawasaki e oggi lo proveremo qua a Castelletto in modo tale che riuscirò ad avere i tempi precisi al decimo e non dover pensare tutte le volte in quel punto della pista a passare e schiacciare il dito. Andiamo a vedere come si monta. Allora, questo è il nostro ricevitore GPS e dentro alla scatola ovviamente ci sono anche le istruzioni per collegarlo e dobbiamo vedere qual è il nostro modello corrispondente e vedere i fili a cui attaccarci. Ovviamente dobbiamo attaccarci sempre alla pulsantiera che gestisce il cronometro, nel nostro caso è questa qui. Dentro alla scatola c'è anche un bel LED che è la nostra prova per vedere se abbiamo collegato i cavi giusti che io ho già collegato. Praticamente una volta che abbiamo trovato il cavio a cui collegare il LED dobbiamo accendere la moto e col tasto che gestisce il cronometro far la prova e vedere se il LED si spegne quando noi pigiamo il cronometro. Se abbiamo fatto tutto giusto togliamo il LED e montiamo il nostro bel ricevitore. Per velocizzare ho usato dei rubacorrenti perché sono in pista e però ovviamente si può sistemare in maniera migliore saldando usando dei connettori un po' più raffinati. Quando avete collegato in automatico girando il quadro si accende il LED ed è tutto pronto per funzionare. Adesso che abbiamo montato andiamo a provarlo in pista va. Non bisogna fare altro che accendere la moto e il ricevitore inizia a rilevare il segnale GPS e sulla ZX4RR basta mettere il dashboard in modalità racing e vediamo il nostro cronometro funzionare. Si entra in pista ed è tutto automatico. Il nostro PZ Racing riconosce in automatico il circuito, il traguardo e anche i settori. Infatti passando sul traguardo al primo giro lanciato parte e tutti i giri segna il nostro tempo. Usciti dalla pista scarichiamo l'applicazione RaceUp e ci guardiamo tutte le nostre sessioni. Scegliamo il giro che ci interessa, possiamo zoomare sulla mappa per vedere le traiettorie e i vari settori. In automatico ci calcola anche l'ideal time e possiamo vedere anche la velocità nei vari punti della pista e altre informazioni che ci possono venire utili.